salve amici del canale e tempo che non pubblico video sulla potatura dell'ulivo a vaso puliconico grazie al dottor antonio montinaro e dal dottor guido de luigi dell'agenzia laure sardegna per avermi dato l'opportunità e l'autorizzazione alle riprese durante la lezione sulla potatura di un ulivo ultrasecolare ad allevamento a vaso puliconico dopo la parte teorica e la dimostrazione pratica sull'ulivo secolare è stata eseguita la potatura sempre ad allevamento a vaso puliconico su un giovane ulivo sia la parte teorica nonché la parte pratica è condotta dal dottor antonio montinaro ed i suoi collaboratori le riprese sono state eseguite in territorio del comune di elini o gli astra grazie e buona visione io sono antonio montinaro e faccio parte dell'agenzia laure sardegna devo ringraziare i colleghi e amici guido Elena che che ci hanno invitato per partecipare a questo corso allora stavo dicendo della del recupero della competitività che che si ottiene con l'abbassamento dei costi di produzione e con miglioramento della qualità il riconoscimento di questo miglioramento della qualità la qualità dell'olio extravergine non è un vezzo un qualcosa di astratto noi siamo obbligati segnate però siamo obbligati a percorrere una politica di produzione di olio di alta altissima qualità perché altrimenti abbiamo sbagliato tutto perché per fare olio lampante olio difettato non ne vale assolutamente la pena dobbiamo ridurre i costi di gestione sapete qual è il costo più alto che 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 si ha nell'olivicoltura nella gestione di un olivetto di una cosa la raccolta è la cosa che influenza maggiormente diciamo tutto il ciclo produttivo della pianta e quindi subito dopo la raccolta cosa avviene la potatura e anzi la potatura è un'operazione molto a rischio perché la potatura può diventare addirittura la prima voce di costo perché la potatura è una cosa particolarissima ha due tipi di costi la potatura ha un costo diretto che è quello che pagate alla persona che viene a fare il lavoro se poi questa persona non è qualificata avete tutta una serie di mancati ricavi che vanno computati in quell'operazione lì quindi attenzione è una cosa veramente molto delicata purtroppo la potatura è una cosa necessaria perché serve perché cosa provate a toglierle ce l'avete dentro ecco la signora sta introducendo un concetto che che può essere permettere alla pianta di esplicare la il suo potenziale produttivo cerchiamo di definirlo un po meglio in maniera costante nel tempo possibilmente superando quella che è l'alternanza naturale dell'olivo quindi costanza di produzione aumento della produzione non solo anche perché una pianta ben potata ci permette di fare tante operazioni molto più facilmente come la difesa come riduzione dei tempi di raccolta ecco ecco qua ci stiamo arrivando riduzione dei tempi della raccolta quindi questo è molto importante noi dobbiamo abbattere proprio i tempi della raccolta e quindi per fare questo intanto è importantissimo far produrre molto le piante perché voi una pianta che produce 10 kg di olive o che produce 80 kg di olive la raccogliete nello stesso tempo perché l'operazione è quella quindi se ragioniamo ci conviene molto di più andare a raccogliere tante olive con poco sforzo e quindi la potatura è quell'operazione tecnica che ci permette di raccogliere in modo più più facile come è facendo un compromesso con la pianta facendola vegetare dove c'è più facile raccogliere e allora capite bene che non è una cosa facile e purtroppo non è una cosa intuitiva molti si armano di di questi strumenti bellissimi che sono le motoseghe gli sramatori però se non c'è uno che le sa guidare si fanno danni magari stasera vi farò vedere anche delle foto che ho fatto qua e lì così io le ho fatte facendo un giro ieri non dite magari è mio non è mio cerchiamo solo di capire cosa sta succedendo ed è l'applicazione di un metodo intuitivo di potatura se noi ci guardiamo c'è qualcuno che che sarà un e 90 quel ragazzo alto e forte ma gli altri siamo tutti abbastanza bassottini no confronto alla pianta confronto alla pianta siamo abbastanza bassottini e abbiamo questa sorta di di voglia di rivalsa di rivincita e la vogliamo riportare ai nostri canoni purtroppo quando iniziamo a fare questi tipi di lavori la pianta vuole abbassata questo è un discorso che si dice sempre purtroppo non è un qualcosa che che va bene con la pianta perché purtroppo per potare bene bisogna essere conoscitori dell'albero conoscitori dell'olivo conoscitori di come funziona la pianta perché purtroppo facciamo delle cose che a noi ci sembrano naturali questa pianta è alta 6 metri vado con metto un livello che mi sembra giusto io sono un 80 1 60 mi fisso una lenza come fanno i muratori e taglio tutto quello che sopra questo è il metodo più intuitivo se fosse il metodo funzionante tu tutti saremo potatori però purtroppo non è così ve lo dico chiaramente perché la pianta non fa non rispetta quel la lenza da muratore la pianta funziona con la sua fisiologia col suo con la sua genetica e quindi funziona in modo diverso la pianta ha degli equilibri ormonali che che guidano il suo sviluppo gli ormoni sono delle sostanze chimiche che vengono prodotte da particolari organi e per quel che riguarda la potatura importa molto la conoscenza di dell'ormone della crescita che sono le auxine se andate a vedere nei libri chimicamente acido indolacetico IAA se volete prendervi lo sfizio di leggere queste cose e sono delle sostanze chimiche che vengono prodotte dalle punte dei germogli dagli apici queste sostanze come funzionano gli ormoni sono dei messaggeri chimici sono delle sostanze che vengono prodotte dalle foglie è un'evoluzione di tutte le sostanze che producono le foglie e in particolare vengono prodotte proprio nella punta del germoglio degli apici tant'è che c'è un fenomeno che è molto ben conosciuto e molto ben descritto che è quello della dominanza piccale queste cose le trovate in tutti i libri di agronomia di coltivazioni arboree cosa a che cosa servono questi ormoni servono per dare dei messaggi per indirizzare lo sviluppo abbiamo detto vengono prodotte nelle punte dei germogli e scendono nella parte periferica della pianta con la linfa cosiddetta elaborata elaborata perché perché ha le sostanze che vengono elaborate dalle foglie le piante tutti i vegetali lo sapete funzionano con la fotosintesi no la fotosintesi è una reazione chimica molto importante la più importante che avviene in natura perché perché utilizza l'anidride carbonica che sta nell'aria anidride carbonica che è una molecola molto piccola è un atomo di carbonio che unisce attaccato a due ossigeni co2 le piante hanno questo potere straordinario riescono a beccare queste molecole piccole a livello della foglia utilizzano la luce l'energia fornita dalla luce del sole e l'acqua che viene mandata dalle radici e quindi riescono a sintetizzare fotosintetizzare questo mattoncino fondamentale della sostanza organica che è lo zucchero quindi si passa da piccolissime molecole a un atomo di carbonio a piccole catene con sei atomi di carbonio che sono gli zuccheri semplici il glucosio c6 h12 o 6 quindi strutturano la materia e a partire da questo zucchero che può essere considerato il mattoncino fondamentale che costruisce tutta la la sostanza organica vivente a partire da questo zucchero si può costruire tutto perché si fanno zuccheri complessi poi diventano amidi cellulose pectine poi proteine sempre aggiungendo togliendo modificando queste questa base qua e alla fine anche la sostanza organica di cui siamo composti noi deriva da il lavoro fatto in precedenza dai vegetali questa è una cosa perché noi o direttamente prendiamo le cicorie le cose ce le mangiamo e quindi sfruttiamo direttamente il lavoro fatto da queste piante o con gli olivi o con l'olio sono tutti i prodotti derivati dalla fotosintesi oppure indirettamente perché se ci mangiamo un bel maglialetto sicuramente avrà mangiato ma sempre lì andiamo è sempre quello il ciclo della sostanza organica vivente e stavo dicendo questo fenomeno molto molto importante che cosa ci dice che questi ormoni danno un messaggio proprio in questa circolazione della linfa che è un messaggio fondamentale cosa significa significa dammi da mangiare che devo crescere mi devo sviluppare e quindi il messaggio viene percepito dalle radici che mandano acqua e sali minerali e arrivano a queste foglie che fanno lavoro e fanno sviluppare la pianta fanno risalire sviluppare il germoglio e quindi si sviluppa un po tutta la pianta è molto importante questa l'azione di queste auxine è equilibrata ricordatevi che nella potatura la parola magica è equilibrio quindi abbiamo tanti tipi di equilibrio che dobbiamo rispettare questa azione equilibrata dagli ormoni che vengono prodotti dalle radici che sono le citochinine che sono responsabili della cosiddetta spinta radicale quindi finché noi prendiamo un germoglio che si sviluppa bene che ha ben chiaro il messaggio dato dagli ormoni prodotti dagli apici il germoglio sale dritto e si sviluppa bene in altezza cosa succede quando interrompiamo il messaggio che da questo questo germoglio facciamo una cimatura o un animale va a brucare le cose una farfallina che se lo mangia succede che il messaggio di tranquillità che passava quando c'era una piena produzione di auxine cosa succedeva scendevano in questo percorso e trovavano dei punti che sono altre gemme ascellari delle foglie finché c'è quella che comanda il messaggio è di tranquillità tu stai tranquilla non succede niente siamo in salute finché ci sono io va tutto bene quando manca questo messaggio prevale l'azione dell'ormone che sale che sono le citochinine che fanno emettere due gemme laterali perché se non c'è quello che garantiva lo sviluppo del coso è necessario mettersi in allarme e sviluppare altri germogli per poter sopravvivere questo è sempre una questione di equilibrio e quindi si sviluppano all'ascella di queste foglie si sviluppano due rami di pari potenza di pari coso questo fenomeno della dominanza apicale è stato ampiamente studiato tant'è che sono state fatte delle prove sono stati sintetizzati proprio questi ormoni in laboratorio l'acido indolacetico in particolare e cosa facevano cimavano il germoglio di una pianta e spruzzavano però continuamente erroravano con acido indolacetico e il germoglio rimaneva e seguiva dritto viceversa in un germoglio normale spruzzavano molte citochinine e apparivano le diramazioni laterali quindi è proprio una cosa scientificamente provata comunque non ve l'ho detta a caso ve l'ho detta perché ci serve nella potatura questa cosa adesso mettetela un pochino da parte e parliamo direttamente dell'olivo allora l'olivo che è la pianta che ci interessa di più è la pianta più forse più bella più significativa che abbia fatto la natura se voi ci pensate la storia dell'olivo è una storia che segue la storia dell'uomo del progresso dello sviluppo dell'uomo è la pianta che viene più citata nei testi sacri il messaggio di pace e proprio non ve lo dimenticate di pace che veniva trasmesso da Dio a Noè dopo il diluvio universale cosa era stato? Era una colomba che portava un ramoscello di olivo questa simbologia è molto molto importante perché solo l'olivo sa dare questi messaggi di pace di resurrezione di riformazione e quindi se lo trattiamo anche bene sarebbe meglio più utile per tutti l'olivo se lo vogliamo descrivere cos'è? come prima caratteristica gli dobbiamo dire che è una pianta eliofila è una pianta che ama la luce del sole e se ne avvantaggia per fare la fotosintesi quindi cosa fa? cerca di esporre di sollevarsi in alto come fanno tutti gli alberi e questo è una caratteristica che non possiamo negare a un albero si espande, fa la fotosintesi e quindi si espone al sole però se guardiamo la sua genetica cioè quello che ha scritto nel suo codice genetico nel suo DNA vediamo che l'olivo è una pianta che descrivono come sempreverde policaulice spugliosa e tendenzialmente basittona queste caratteristiche sono molto importanti da conoscere perché se no noi abbiamo due strade o mettere la lenza da muratore e fare quello che ci esce ma non funziona così l'olivo oppure dobbiamo conoscere queste caratteristiche per arrivare a un metodo di potatura che sia scientifico non fai da te ci sono delle persone che hanno un atteggiamento più o meno positivo con le piante che intuitivamente sono riuscite a ricavare delle nozioni però se noi non arriviamo a conoscere la genetica cioè la fisiologia della pianta non diventeremo mai bravi potatori il bravo potatore è una persona che conosce come funziona l'olivo e quindi cerca di fare il compromesso giusto il compromesso possibile tra quelle che sono le esigenze dell'olivo e quelle che sono le esigenze dell'uomo che sono quelle come diceva quel signore di andare a raccogliere più facilmente le olive nella parte più medio bassa della chioma dove riusciamo a arrivare piacevolmente e riusciamo a fare bene il nostro lavoro detto ciò sempre verde cosa vuol dire è intuitivo è una pianta che rimane verde tutto l'anno verde cosa vuol dire che le foglie che che forma se sono in condizioni di salute buona permangono sulla pianta per più di un anno ho detto se perché anche le foglie si possono ammalare e abbiamo visto vedremo delle cose anzi avete già fatto una lezione con Guido De Luigi hai parlato di occhio di pavone avrei parlato quindi sono soggetti ad ammalarsi e a cadere anzitempo questo cadere anzitempo può comportare dei problemi perché quando lo vedete che la foglia ha sempre una gemma sotto e quindi si chiama foglia madre per quello perché come una madre nutre molto bene questa foglia a seconda dell'equilibrio che si instauri all'interno della chioma sa dire a questo figlio se andare a fare frutta o se andare a fare legno a seconda della situazione che si è creata all'interno della chioma della situazione ormonale quindi sono molto importanti queste foglie perché se cadono anzitempo non riescono a dare quel messaggio per andare a fiore e la pianta continua a fare succhioni su fare legna che magari non ci serve perché l'olivo produce sui rami flessuosi di un anno che sono abbastanza inclinati anche questa è una cosa che vedremo magari più in dettaglio con delle diapositive sempre verde policaule e cespugliosa policaule cosa vuol dire poli caule io sono dei sassari cosa vi ispira la cosa i sassaresi come li chiamate magna non c'entra niente vi sto imbrogliando il caule e il tronco quindi è una pianta che se la lasciate da sola alla sua espressione genetica estemporanea si forma un cespuglio su tanti tronchi ecco perché c'è un'operazione che ogni anno deve essere fatta i polloni che vengono emessi alla base della ceppaia devono essere tolti perché altrimenti sottraggono energia a quella che la pianta che vogliamo allevare perché noi per allevare la pianta dobbiamo fare delle forzature come le facciamo con gli animali non è che lasciamo tutti gli agnelli non è che dobbiamo fare delle operazioni particolari se vogliamo produrre parlare di produzione quindi l'olivo lo dobbiamo allevare su un tronco o gli spagnoli lo facevano su due o tre tronchi ma è un numero ben limitato non possiamo lasciare che diventi un cespuglio su tanti tronchi che poi diventa un cespuglio incontrollato policaule cespugliosa tendenzialmente basittona e questa è la caratteristica forse più importante che dovete tenere a mente quali sono le piante con un schema di accrescimento basittono? basittono cosa vi può richiamare? provate a ragionare base cosa vuol dire? vuol dire che le diramazioni, le branche che vengono dette così che crescono nelle parti basse della chioma sono quelle che prendono più forza, più potenza per ricordarvi bene uno schema di accrescimento basittono voi ricordatevi dell'albero di Natale come è fatto l'albero di Natale? perché mettendosi a mente un albero di Natale abbiamo capito molto di come possiamo far funzionare l'olivo dove ce li ha i rami più grandi? e via via è un cono di vegetazione questo è molto molto importante per capire come funziona l'olivo perché se tendenzialmente ha questa idea di sviluppo e noi la secondiamo in qualche modo con i debiti accorgimenti riusciamo a ottenere il massimo dall'olivo quindi abbiamo detto sempre verde, policauleccia spugliosa e tendenzialmente basittona perché ve le ho dette queste cose? se voi avete parlato con Guido e con Elena il metodo che noi proponiamo che è un metodo scientifico basato su osservazioni scientifiche esiste da tantissimo tempo, noi non abbiamo inventato nulla, non ci siamo inventati nulla il professor Roventini aveva chiuso la sua sperimentazione negli anni 1936 se non sbaglio aveva chiuso un 15 anni di prove, come si suol dire, in blocchi randomizzati lui aveva fatto impiantare un olivetto con le stesse varietà che erano quelle toscane ovviamente perché lui operava a Firenze e cosa aveva fatto? aveva fatto dei blocchi dove aveva messo a confronto i diversi sistemi di potatura che si conoscevano e venivano praticati a quel tempo e che poi sono gli stessi di adesso mancava la sperimentazione sul superintensivo ma di questo se volete ne parleremo dopo non si è inventato niente nella storia aveva fatto il confronto e aveva chiuso dopo 15 anni di osservazioni pratiche si andava a misurare quante olive produceva quella pianta potata in vaso dicotomico faceva tutte le somme, insomma cosa scaturiva fuori? che le piante allevate col sistema da lui ideato che era il vaso policonico avevano prodotto di più e avevano dato i minori costi di gestione e questa è una cosa che non è da poco è una cosa che vuol dire che era la strada giusta da intraprendere e perché succedeva questo? perché il vaso policonico è quella forma di allevamento che induce induce un maggiore equilibrio alla pianta equilibrio è sempre la parola magica cioè cosa vuol dire? permetteva a quella pianta di esplicare al massimo le sue potenzialità produttive con il minimo costo di gestione, minimi interventi per andare a potare e poi su questo ne discuteremo perché vi farò vedere delle cose che fate voi e delle cose che invece potrebbero essere mediate a noi con la pianta non ci conviene bisticciare perché se bisticciamo con la pianta facciamo male a lei ma non facciamo bene a noi perché perdiamo tempo, paghiamo di più e raccogliamo di meno tutto sommato se lasciamo perdere un po' della nostra sapienza tramandata o meno e ragioniamo sui concetti della fisiologia probabilmente riusciamo a ottenere qualcosa di più e conviene a tutti una sorta di compromesso è un compromesso vero e proprio perché la natura incontrastata non possiamo permettere che si esprichi perché anche se il professor Morettini che è stato il primo studioso dell'olivo trovate un manuale di olivicoltura, il piantico che c'è, è molto approfondito, molto sviscerato diceva che una pianta non potata produce più di una pianta potata e questo è vero però le olive che produce intanto sono più piccole con meno olio sono olive che vengono prodotte ovviamente nelle parti dove la pianta va a svilupparsi e quindi molto spesso nella parte superiore alta perché vi ho detto, adesso mi sto imbrogliando, siamo arrivati a dire del vaso policonico induce un maggiore equilibrio perché? perché il vaso policonico come è costituito? è costituito da diversi coni, perché poli vuol dire più, conico, più coni di vegetazione distribuiti nello spazio in modo che ci sia un massimo sviluppo di chioma allora il volume della chioma è il concetto forse più importante per quel che riguarda la produzione dell'olivo perché parlo di volume? perché le foglie dobbiamo immaginarle come una sorta di pannello solare funzionano bene se sono bene esposte al sole quindi dobbiamo rispettare la caratteristica che l'olivo è una pianta heliofila quindi dobbiamo, per produrre, dobbiamo concettualmente avere il massimo numero di foglie di superficie fogliare o se lo riportiamo a un concetto di albero dobbiamo parlare di volume di chioma allora dobbiamo avere il massimo quantitativo di foglie che sono il massimo quantitativo di pannelli solari messi in condizione di fare il loro mestiere cioè produrre elaborati se noi abbiamo foglie ombreggiate non producono e alla fine cosa succede? si seccano poi voi potete vederlo in queste piante che hanno assunto sono tornate alla loro naturalezza cioè hanno riformato un cespuglione dove avete le parti buone? ce le avete solo nella periferia è chiaro come concetto all'esterno all'interno basta che abbassate la testa vedete è tutto secco perché è tutto secco? perché non funziona il pannello e la pianta lo elimina allora è giusta quella storia del compromesso però il miglior compromesso è questo costituire il massimo volume di foglie esposte al sole in modo che possano produrre questo concetto sposa molto bene la storia lo schema di sviluppo basitono perché il cono funziona con lo schema basitono quindi voi state mettendo l'albero in condizioni di sentirsi anche soddisfatto col vaso policonico non si interrompe drasticamente il desiderio delle piante di andare in altezza quella è una cosa che ce l'hanno scritta gli alberi devono aprirsi e conquistare la luce la parte alta perché? perché nella parte alta si trovano anche le condizioni migliori per questi lavori che dobbiamo fare noi l'aria è più calda si sfugge all'azione dei parassiti che stanno tutti i parassiti che avete visto con Dottor De Luigi si trovano più facilitati in un clima ombroso, umido, chiuso quindi è una necessità degli alberi quella di svilupparsi e andare e non va mai interrotto questo desiderio di andare in altezza per lo meno a livello dei coni che decidiamo di lasciare perché? perché altrimenti se noi facciamo quei lavori pessimi di capitozzature sono facili da fare però non fanno il potatore quelli ma neanche legna perché se uno conoscesse la fisiologia della pianta potrebbe fare lo stesso quantitativo di danno facendo più legna io potrei fargli molta più legna e lasciare alla pianta la possibilità di svilupparsi meglio anche questo non sanno fare neanche legna perché molto spesso fanno capitozzature a due metri e venti, due metri e trenta lasciano tutto in modo che la pianta non abbia proprio scampo può fare solo succhioni sulla parte centrale e alta e quindi stanno indirizzando lo sviluppo verso il centro e verso l'alto che è il contrario di quello che dovrebbero fare è fatica sprecata per la pianta e per chi fa questo lavoro purtroppo la pianta risponde con la sua fisiologia non con la nostra testa quindi bisogna conoscerla intimamente per raggiungere il risultato migliore non bisogna azzuffarsi bisogna dialogare bisogna capire come funziona e stavo dicendo torniamo al vaso policonico intanto è un vaso il vaso è una struttura che è svuotata al centro ce l'avete presente e perché funziona meglio rispetto al cespuglio naturale il cespuglio naturale lo vedete cosa fa? fa una sfera fa una palla in questa palla cosa funziona bene? funzionano solo le parti periferiche se voi prendete un manuale di geometria io sono figlio di geometra quindi queste cose la sfera vi diranno tra tutti i solidi è quello che offre la minore superficie di esposizione esterna minore che va in contrasto con la maggiore superficie che vogliamo esporre quindi il vaso è una sfera svuotata al centro per aumentare la superficie di esposizione perché nel vaso la luce del sole può entrare dal centro e dai lati e quindi è uno schema più funzionale questo perché tutto parte dalle foglie più le mettiamo in condizioni di produrre più potranno fare olive noi dobbiamo avere una struttura idealmente con il massimo numero di foglie possibile per quel tipo di struttura per quel tipo di albero per quel tipo di varietà quindi il vaso policonico ci aiuta in questo senso perché induce un maggiore equilibrio quando si sente bene soddisfatto di andare in altezza per noi è un gran vantaggio perché vuol dire che limita il numero di percorsi con i quali vuole prendere la luce perché gli basta i segnali che danno quelle cime cosiddette che sono le parti terminali del cono di vegetazione che devono essere il più verticale possibile perché riprendete quel concetto della dominanza piccale perché c'è un comandante per ogni branca che serve come riferimento non è un comandante cattivo un despota il comandante, la cima serve per guidare gli elaborati all'interno della pianta le sostanze elaborate perché? perché richiama preferenzialmente la linfa la dirige proprio su quelle punte verticali che non sono la totalità non sono tutto l'albero sono delle punte sono quattro, cinque, sei quelle che ci stanno in base alla pianta che abbiamo e che comunque condizionano lo sviluppo sottostante all'interno della branca cosa vuol dire condizionano? che permettono di fare delle diramazioni via via crescenti perché il cono è fatto così che intercettano la luce e quindi mettono in grado la pianta di produrre quindi più sottobranche produttive abbiamo e meglio va per la nostra esigenza che è quella di produrre nella parte che riusciamo a gestire meglio sono tutti concetti uno legato all'altro abbiamo quasi concluso questa piccola chiacchierata per farvi vedere come si realizza anche questo sistema qua questo vaso policonico quindi abbiamo parlato di cime che sono la parte terminale di questi coni di vegetazione che devono avere la loro verticalità proprio per attirare la linfa grezza dalle radici per richiamare questa linfa che poi distribuiscono non consumano totalmente ma distribuiscono nelle parti più basse medio basse della chioma e questo è un'operazione diciamo anche molto importante in sardo sapete come si chiamano le cime? Sudiraggio Sudiraggio è una parola che vi spiega molto bene questo concetto qua perché vuol dire che tirano la linfa come la tirano? Con la dominanza apicale cioè questi ormoni queste auxine vengono prodotte secondo voi la velocità con cui scendono queste auxine dove è maggiore? Nel percorso verticale in quello obliquo o in quello tutto piegato quindi sono dei concetti molto importanti queste antenne che non piacciono alla gente sono la parte che è più importante per la fisiologia della pianta se riusciamo a fare queste osservazioni scientifiche la velocità di discesa della linfa è maggiore nei percorsi verticali se voi guardate tutti i succhioni sono parti che crescono due o tre volte tanto rispetto a questi rami qua perché? Perché funziona la dominanza apicale è la velocità che viene regolata quindi un altro concetto che dobbiamo vedere è quello dell'inclinazione dei rami quindi noi la pianta come la gestiamo? intanto vediamo se è una pianta vigorosa voi avete una varietà che è splendida è molto forte e meno male perché sennò tutte le botte che... per fortuna è quella che zoppa zoppa si riprende cerca di sopravvivere come fa però voi con questa varietà potreste fare molto di più trattandola bene riuscirete a produrre molto molto di più e con minore fatica le due cose non sono distanti l'importante è capire come funziona quella pianta quindi in molti tutorial sentite parlare le branche devono avere un'inclinazione di 45 gradi sul tronco lasciate perdere perché queste sono le cose che possono dire i matematici ma non uno che è esperto di piante uno deve capire se ha di fronte una bosana se ha di fronte una tonda di cagliari se ha di fronte un'ogliastrina perché ogni pianta ha la sua fisiologia quando le vedete così forti che mettono succhioni anche su percorsi abbastanza... se non sono sufficienti 45 gradi aumentate la chiusura verso la verticale ve la dovete trovare assieme alla pianta voi dovete guardare osservare molto bene quello che fa la pianta e se è necessario... la cima magari quella cima ho notato che la abbandona la pianta e ne emette un altro perché evidentemente lei non lo gradisce quella... ma certo lo vedete qua si riempierà tutta di succhioni perché la cima è stata messa troppo lontano e con un'inclinazione troppo bassa il tronco dell'olivo è completamente disseminato di gemme cosiddette latenti che sono diverse da queste che sono gemme pronte espresse queste che stanno alla base delle foglie cosa succede? quando c'è un ristagno di linfa cioè quando la linfa scorre lentamente e c'è l'incidenza della luce solare per lavori fatti come... adesso non vogliamo criticare... fateci caso quando voi esponete una branca al sole la tendenza naturale è quella di buttare succhioni se voi non avete scelto l'inclinazione giusta da dare a quella branca e non avete allevato la cima diciamo con la giusta inclinazione si riempie lo stesso di succhioni vuol dire che qualcosa non sta andando bene peggio pure se fate quelli lavori a motosega che diventa una bandiera di succhioni ma la pianta non è a colpa perché la pianta sta cercando di sopravvivere ci vuole rispetto ci vuole sensibilità tutto quello che ha appena spiegato il relatore dottor Montinaro si riassume così potatura dell'olivo a vaso policonico uno degli scopi della potatura è quello di organizzare la chioma dell'albero in modo che la vegetazione sia concentrata nelle zone dove è più facile raccogliere i frutti per far questo è necessario organizzare e semplificare la struttura della chioma branche principali su dei percorsi obliqui inclinati perché l'inclinazione rallenta il deflusso della linfa rallenta la velocità di circolazione dovuta al fenomeno della dominanza apicale ciascuna branca assumerà quindi una conformazione a cono da questo il nome di vaso policonico con la punta verso l'alto inserita sul tronco con un'inclinazione variabile anche in funzione della varietà e della tipologia di raccolta da utilizzare generalmente più inclinata rispetto alla verticale del tronco nel caso di raccolta con agevolatori e varietà meno vigorose con un angolo più stretto per la raccolta meccanica e per varietà vigorose il cono come forma geometrica consente alla luce di penetrare fino ai livelli più bassi ed inoltre a seconda lo schema di accrescimento basitono caratteristico della genetica dell'olivo rallentare giustamente ma non bisogna mai interrompere il desiderio di andare verso l'alto della pianta perché altrimenti va in squilibrio con il suo apparato radicale la crescita delle piante è regolata da equilibri ormonali e in particolare viene sconvolto anche l'equilibrio tra auxine e citochinine il metodo operativo è quello di ridurre il numero di percorsi legnosi che vanno verso l'alto branche primarie scelta dell'inclinazione di quelli da mantenere riduzione del diametro delle sottobranche o branchette laterali produttive ma è mano che ci si avvicina alla porzione alta della chioma per permettere una buona illuminazione di tutto il cono di vegetazione in questo modo la pianta è soddisfatta nel suo desiderio di espansione ma arriva in alto soltanto con pochi rami e per giunta di diametro ridotto mentre abbondano le risorse nella parte medio bassa della chioma dove si sviluppa maggiormente l'attività vegetativa e dove il produttore trova soddisfazione ai suoi desideri di produrre il più possibile e con i costi di gestione più bassi in questi interventi di semplificazione della chioma bisogna ridurre il numero delle dicotomie duplicare i percorsi significa aumentare le possibilità della chioma di svilupparsi verso l'alto nella maggior parte degli interventi di ristrutturazione di oliveti storici tradizionali in pratica si deve passare da un vaso dicotomico al vaso policonico la pianta occupa tutto lo spazio a sua disposizione ma ci resta con un numero di percorsi verticali inferiori in questo modo penetra luce nella porzione bassa della chioma che così funziona meglio e si riveste bene e dallo stesso tempo arrivano anche messaggi di equilibrio da parte delle cime fonti di messaggi ormonali riassumendo 1. ridurre i percorsi verticali semplificazione della struttura individuando le branche primarie 2. agire sull'inclinazione delle branche primarie per rallentare la circolazione della linfa 3. ridurre i diametri delle branche secondarie dalla base alla cima per rispettare la basitonia 4. ridurre le dicotomie maggiori risorse nella parte medio-bassa della chioma dopo questo vademecum sulla potatura si passa alla prova pratica intanto osserviamo cosa è successo in questa pianta qua c'era il primo potatore che aveva problemi di altezza sicuramente perché è andato ha fatto tre capitozzature ha interrotto bruscamente e non doveva essere neanche molto alto perché le ha fatte basse e comunque paradossalmente nella violenza di questo atteggiamento forse forse è da preferire un atteggiamento del genere che un atteggiamento falsamente buono che il taglio grosso della branca lo fa a quattro metri a tre metri d'altezza perché significa far ripartire la pianta a un livello molto alto e quindi spingere sempre più in alto l'asse vegetativo se non altro qua questa pianta ha cercato di fare il suo mestiere ha gettato dei succhioni li vedete e questi succhioni hanno cercato di conquistare la luce poi qua è una gara alla sopravvivenza a chi sopravvive di più è una gara alla sopravvivenza e nella parte sottostante invece il problema è più grosso vedete cosa comportano le capitozzature grosse cosa succede? in parte l'olivo funziona per corde cioè c'è una continuità tra la chioma che sta sopra e le radici questa continuità è una continuità di vasi è un tessuto vascolare immaginate che parte dalle foglie e arriva fino alle radici e c'è uno scambio continuo radice e foglia perché la radice manda materiale grezzo da elaborare però se la foglia non rimanda indietro sostanze elaborate per nutrirla zuccheri, amidi eccetera la radice muore cosa succede? quando noi facciamo un taglio così drastico così terribile da quel momento scatta il cronometro per quella pianta se non riesco a riprendermi in qualche modo sono morta però già tutta la corda tutta la parte sottostante va in crisi perché non c'è più quell'equilibrio tra radice e chioma perché sotto le radici sono sufficienti per nutrire tutta la parte di foglie che sta sopra e viceversa se manca la parte che sta sopra quelle radici muoiono e quindi muore tutta la corda come potete vedere l'olivo è un legno duro e impiega molto tempo prima di decomporsi quindi questa cosa ragionevolmente è stata fatta 40 anni fa cerchiamo invece molto concretamente di fare quello che è possibile fare su questa pianta per applicare i criteri del vaso policonico senza essere troppo drastici perché anche essere troppo drastici non è confacente per queste piante perché tanto il vaso policonico da una pianta impostata in un modo totalmente diverso non si riesce a fare subito noi possiamo dare delle indicazioni perché nel giro di 3-4 anni si possa ricostituire al vaso policonico ma fare tutto in un anno non va bene non funziona noi cosa dobbiamo fare? dobbiamo spaziare lo vedete che di percorsi con i quali la pianta cerca di trovare il sole ce ne sono tanti uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattori insomma sono troppi effettivamente quando i percorsi sono troppi siamo nel cespuglio quindi per fare il vaso policonico cosa dobbiamo fare? dobbiamo cercare di semplificare semplificare vuol dire trovare le direzioni di espansione più idonee più ben espresse da questa pianta e quindi a partire da una cima che scegliamo andiamo a individuare tutto il percorso della branca fino ad arrivare al tronco, all'inserzione e ovviamente dovremo selezionare i percorsi migliori quelli che possono gestire bene la pianta e gli altri se non... cioè nei casi più estremi li elimineremo del tutto nei casi in cui si potrà recuperare qualche sottobranca a produzione lo faremo e magari l'asportazione verrà fatta negli anni successivi l'asportazione definitiva allora partiamo da un punto qualsiasi qua dobbiamo... vedete che c'è un percorso netto, bello individuato dalla pianta che poi sopra diventa una miriade di percorsi allora qua cosa dobbiamo fare? scegliere il percorso che ci garantisce di avere la cima migliore e avvantaggiare quello a discapito magari di altri che gli stanno a fianco e che costituiscono un cappello, un fungo grosso perché se noi vogliamo far scendere la vegetazione a tutti i livelli cosa dobbiamo fare? dobbiamo avere una cima e non troppe cime perché troppe cime fanno un ombrello non entra la luce sotto e sotto la branca non si può rivestire allora il percorso sembra abbastanza buono anche come inclinazione e vedete che ci sono due espressioni di cima che sono più forti delle altre sono questa che è proprio sul dorsale di questo qua ma c'è anche questa qua vedete qua dietro e questa rientra verso il centro della pianta e fa concorrenza a quell'altra poi se vogliamo vedere ce ne sono tante altre che vorrebbero diventare cima come questa, come questa, come quella lì qua bisogna fare la scelta allora se vogliamo predirigere la linearità del percorso andremo a puntare su questa lo vedete che da questo punto va bella verticale questa è una bella cima e questo sarebbe un bel comandante che potrebbe regolare la crescita di tutta questa branca comprese le parti che potrebbero uscire qua sotto allora cosa devo fare? devo qua per favore allontanatevi che è un pericolo sono un pericolo io cosa dobbiamo fare? dobbiamo intanto togliere qualcosa dal centro che viene prima della cima vedete questo qua diventa questo percorso qui questo qua diventa un'altra cima che sta nel mezzo della pianta e non solo va a dare fastidio da quella parte quindi la prima cosa che faccio cos'è? vado a togliere questa allora il taglio lo faccio in due momenti perché? perché se lo facessi qua rischierei col peso di far sbrancare e di far sbucciare la cosa ci sono 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 Fatti un po' di spazio? Così, ma da lì, ma lo tagli questo qua, però lasci la sottobranca, questo, ma lo tagli qua. Lo posso tagliare da qua tanto, no? Sì, ma ti sei preso, il segaccio è meno buono. Quello mio, no? Questo non è tuo? Sì, ma quello è il rotto. No, no, no. No, no, no. Aspetta dai, lo faccio io. E a me da quanto? Ti aiuto? Toh. Beh, oggi ho tanti collaboratori. Eh, quindi non hai fatto il contro... Eh? Eh? No, ma tanto il peso è lì. Se ti sposti ancora più in là riesci a batterlo. No. 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 la cima vera e propria, tutte e due non ci possono stare e allora questa più al centro la facciamo fuori, questa qua intanto faccio lo spazio qua non è il posto migliore, non è questione di essere in pianura, qua non è gestito il suolo poi io devo stare attento anche a voi, noi stiamo attento a lei, non sa cosa sono 90 kg addosso e dietro non vedo, beh faccio male 90 e coa no no non prendete niente con le mani, fermi fermi tanto dovrò togliere anche quest'altra toglilo ma tanto dobbiamo togliere anche gli altri questo non c'è un mordeco, questo non è una rossa questo mordeco pure c'è spuglia si ci sono si si ma non sono toscano toscano a direzione del ramo allora sto da si in un percorso più lineare possibile all'esterno e senza avere troppo di ramazione fatto? perfetto 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 il lavoro stiamo cercando di partire da un concetto stiamo cercando di fare un cono di vegetazione che abbia questa quella cima come riferimento ci sono tante formazioni che la pianta ha impiegato almeno 5-6 anni di tempo quindi se vado a togliere drasticamente tutto faccio un grosso danno per niente che aspetta aspetta si quelle da rifinire però se vedete adesso abbiamo un cono di vegetazione lo vedete l'albero di Natale si 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 ce la fate toro salvato prendi questo che è più grosso quindi avrebbero tolto anche questi due qua? si avrebbero tolto questa parte qua io non la tolgo perchè non mi da fastidio vedete che la luce scende è bene illuminata questa pianta si si vedete le lascia sempre quello spazio e non l'ho fatta a raso allora la cosa sbagliatissima è fare a raso perchè comunque succede quello che è successo lì lo vedete tutta la corda viene l'ideale sarebbe lasciarci un centimetro e rispettare il cercine di cicatrizzazione ma quando sono tagli così alti che dobbiamo fare dal basso non è il caso salvato aspettate un attimo che spieghiamo prima voi siete già automatizzati ma gli altri no allora avete visto cosa stanno facendo stanno togliendo semplicemente il secco perchè certi rami che sono quelli vedete come questo è proprio esemplificativo del modo di vegetare dell'olivo cosa succede? vedete quando allora vi ho detto quando si espone un percorso orizzontale come poteva essere quello alla luce del sole cosa succede? salgono dei succhioni vedete questo ma prima ancora erano questo questi succhioni inizialmente salgono si accrescono molto più degli altri al terzo anno si aprono bene cosa succede? nelle parti oblique vanno a fiore fanno delle olive e le olive fanno peso e fanno piegare il ramo vedete piega il ramo cosa succede? parte un altro succhione cresce piega e gira vedete un po' se noi vogliamo vedere le parti nuove sono queste qua vedete che questo è il succhione l'ultimo pie esterno mentre queste parti interne sono quelle che hanno già prodotto prima quindi se noi vogliamo ringiovanire la vegetazione e togliere il secco andiamo a eliminare proprio le parti sotto gli archetti andiamo ed è quello che stava facendo Salvatore Cosima togli quello, togli quello però ho capito però io sto dando una spiegazione a quello che avete fatto voi così è più chiaro e comprensibile quindi se vogliamo ringiovanire cosa facciamo? togliamo da sotto così facciamo anche respirare questa pianta perché si trova in una situazione lo vedete tutta la terra l'hanno scaricata qua anche questa cosa poteva essere un pochino più pareggiata gestita meglio gestita meglio anche lì non c'era niente allora questa direzione per il momento mi sta bene se andiamo a vederla da fuori quindi abbiamo già individuato un buon cono di vegetazione tutte queste parti qua possono essere alleggerite però non eliminate del tutto facciamo così facciamo un taglio di ritorno qua Salvatore ci portiamo su quella giovane no più dentro e ce lo faccio io e lasciamo le parti nuove qua poi Salvatore se fate un po' di lavoro di togliere qualche po' di secco io mi spingo dall'altra parte a individuare un altro cono allora questa qua questa qua a rigor di logica dovrebbe essere una sottobranca del percorso che abbiamo lasciato noi facciamo una cosa cerchiamo di trasformarla in un'altra cima come la trasformiamo prendendo per buono quella parte verticale che sta lassù però se dobbiamo dare luce a quella questa che abbiamo lasciato come sfogo come sottobranca la dobbiamo far fuori in modo che questa possa trovare luce e salire quindi qua facciamo una cosa intanto gli tolgo questo troppo bassa troppo bassa sì quella lì falla tutta no non c'è nulla tanto gli voglio lasciare qualcosa di sopra taglia quella io posso togliere questa? no guarda se vuoi togliere togli tutta questa bandiera alta questo grosso questo questo questi che sono quasi uniti quali sono? questi ho detto senza ma avrebbe tagliato da qua io li lascio perché comunque questo cono di vegetazione è buono poi posso lavorare un po' più finemente a livello di sottobranche in questo modo però qua è un bel cono di vegetazione io agisco su questo cimale qua allora vedete che qua è già un albero di Natale lei se lo inquadri da qua tutte le parti prendono luce adesso alleggeriremo solo un pochino la cima perché è troppo folta rispetto al resto però qua c'è tutta vegetazione produttiva buona che io lascio lei immagini tutta questa parte senza questa parte c'è un buco un vuoto enorme quindi bisogna aspettarla la risposta della pianta intanto facciamo due chili di olive che male non ci fanno ho capito e dobbiamo fare un discorso progressivo tanto la potenza è là non stiamo stravolgendo la fisiologia della pianta non è troppo alta perché con questi strumenti lo gestiamo e la produzione delle olive non è sulla cima la produzione è qua però se lei non ha il registro la cima qua non ne fa produzione perché fa succhione è giusto per poi una pianta così allora qua lei legarlo e farlo inclinare perché? ho detto la cima deve avere dominanza apicale se lei la abbassa perché non tolera la cima adesso lei spenga il microfono si infatti ha detto un centino per la limpa intanto lì usciranno anche dei succhioni che li prenderemo come sottobranchi come ma questa branca è qua? eh la facciamo diventata è rimandata? no non lo sappiamo perché adesso questa branca che non ha nulla sopra tenderà a fare un'altra cima e ci può andare bene e lo utilizzeremo orizzontale una parte della branca si però guarda che bella vegetazione poi qua ci sarà qualche succhione che chiuderà l'angolo e lo alleviamo per il momento gli lasciamo questo di tiraggio questa branca quello lì però siccome è inutile fare illusioni qua qualche succhione verrà anziché toglierlo lo dobbiamo allevare per chiudere l'angolo per fare la c e poi il tagliere faremo un taglio di ritorno abbiamo tre succhioni grossi che si sono sviluppati questo centrale tende a occupare il centro della pianta e quindi questo qua lo faremo fuori e la cima andremo a sceglierla su questo percorso qua vedete che la più forte è questa allora secondiamo prendiamo questa cima che sale verticale e facciamo fuori questo si ah così già è facile è facile Bru fai due un paio di si è mollata la cartellina allora vediamo di fare una cosa qua alleggeriamo la cima dato che che riesco perché questa cima qua rispetto alle altre ha bisogno di di andare più in verticale quindi più peso riesco a liberarli e più salirà e e gli lascio anche questa che rientra perché tanto dobbiamo immaginare che questa questo percorso si debba chiudere debba arrivare qua quindi se questa cima si sviluppa posso fare un taglio di ritorno qua l'anno prossimo su questo qua e questo sarà più alto questo è l'angolo più chiuso oppure vediamo anche un po' quello che uscirà qua a questo livello qua possiamo alleggerire ulteriormente così forse da sotto no no quindi Adesso puntiamo qua, l'avrei fatto erroneamente, lo stesso lavoro però ho detto anche quello, allora spostatevi da qua per cortesia, se mi lascia lavorare, allora intanto la cima è questa, vedete qua, c'è una dicotomia, allora io cosa faccio? Semplicemente vado a incidere su quello che è il cimale, lo facciamo tutto? Si facciamo così, sentiamo la sensibilità della potatrice. Non è brutta no, guardami la cima qual è più verticale e più alta, quella che è fuori, si quella la, questo qua fuori e quel succhione si, quella bandiera, ferma, ferma, questo qua, uno, progetta lì. Questo qua, vedi Antone, forse nasce da quella parte. No, nasce lì sotto, quello bisogna sbrogliarlo, quello se riusciamo a fargli fare il giro ce lo pieghiamo, perché è vegetazione buona. Adesso voglio vedere qua, qua c'è tutto questo, questo ambaradan, che è un'altra cima grossa, questo qua lo faccio fuori. Tutto? Portiamo via tanta vegetazione, tutta la vegetazione portiamo via. Allora la chioma, la cima è questa. Io la cima avrei togli, la cima è quella? Eh. No, no, la cima è quanto? No, la cima è qua. Su quel percorso lì, quella è la secondaria che va poi a formare una cima qua. Ma no, no, questa, questa qua è, questa la faccio fuori tutta. Tutta? Sì, sì. Guarda, rimane, rimane, rimane. No, tutta questa parte qua va via. Tutta questa parte qua va via. Sì, ma c'è roba qua. Rimane questo, questo qua sta rimanendo. Sì, 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 però non si può fare. Aspetta che mi sposto. La alleggeriamo Antone, però, piano piano, l'inizio a togliere questa. Eh, vai. Ti segui? Sì. Attento, che si chi... Questo qua. Cosa vuoi fare? Devi abbassare. Perché sono le cose che erano bambini. Non abbassi la cima per favore. Ok. Aspetta che vado con questo che è più aggressivo. Vedi, qui ci vuoleva il drone. Questa vuole il drone. L'ho tolto. E noi, lo ce l'ho, ce l'ho mettere a testa. Ah, no, ce l'ho avuto in testa. Eh, sarebbe stata pure una bella impresa. Andate a vedere l'amore. Come l'amore, come l'amore, come l'amore. Come l'amore, come l'amore, come l'amore, come l'amore. Si è incastrato e si è spezzata anche questa. Quindi, alla fine. Tira adesso. Piano. Aspetta, aspetta. Lo faccio io. Fermi. State fermi se potete. Aspetta che c'è la secondaria, la piccola staccata, che è la tavola branca. Ed è bella, quella. Qui andrebbe terrazzato, tu che sei il responsabile. Non riesco a vedere. Eh? Però abbiamo fatto il tuo nonna. Ah, quindi lo dovete. Qui ci sono. Sì, devi portargli un pochettino. Stanno già iniziando a prendere un pochettino. Aspetta. Eh, lo qua, lo prendi. Perché siccome tagliamoci per ammette, di un pochettino. Non vedi Gianlu, alla fine non rimane nulla di buono. No, però questa qua è quella. Ed è buona, sì. Infatti è questo che devo tagliare. È quel ciuffo lì che ti rimane. Tutta questa, no, questa va via. Eh, questo va via. Eh, allora per cosa lasci? Rimane questo. Eh? Mi segui? Sì, ma io voglio togliere questo qua. Lo vedi? E qui è questo, Antù. Eh. Questa parte qua va via. Sì. Ti volevo dire, rimane questa qua. Sì, sì. Lo vedete che qua c'è un doppione, è una... Da sotto è tre. Qua c'è qualcosa di buono e lo lasciamo. Questa è da togliere? Quale? Aspetta, aspetta. Noi, forbi c'è una buona. A Sassari non ne avete alberi così, contorti. A Sassari si fanno gli stessi sbagli che si fanno qua. Davvero? Però c'è più attenzione mi sembra. A Sassari c'è semplicemente un gruppo che sta lavorando da più anni e quindi qualche cosa sta passando, la cultura va per piccoli passi, non si immagini niente di... tutto il mondo e il paese sono gocce, però a Sassari sono gocce continue perché abbiamo formato diverse persone, queste persone fanno da... trasmettono, divulgano e piano piano abbiamo qualche caso migliore, qualche caso più virtuoso, ma non bisogna farsi illusioni, non è che siamo un pianeta avanti. Se voi leggete le statistiche dell'Istat di 20 anni fa, Istat, quegli altri enti che facevano statista Ismea, ci sono proprio riportati i dati di quanto si produce a Ben Sardegna e la media era di 85 mila quintali di olio in media per anno. Se voi guardate i dati più attuali sono 40, 45 mila, cosa vuol dire questo fatto? Vuol dire che un po' di gente si è stufata di raccogliere, di fare... è abbandonato gli olivetti, per i motivi che abbiamo accennato all'inizio. Un altro numero significativo, un'altra quota molto importante è dovuta alla perdita di produzione usando metodi di potatura non consoni. con le capitozzature e le cose che si fanno in tutta la Sardegna, noi abbiamo perso la metà del nostro potenziale produttivo, c'è poco da girare, se uno è attento e guarda queste cose, i numeri dicono questo. Il buono, non so i lini, aveva 8-10 frantoi, oggi ce n'è uno e mezzo. Quello può essere una questione di efficientamento, ma può essere anche una questione proprio quello che dico io, lei, l'abbandono e poi vanno di pari passo le cose, perché quelle potature ti portano a spendere, non ricavare più nulla e per forza poi abbandoni, perché ti stufi di spendere sempre i soldi a togliere i succhioni, perché un'altra cosa che fanno è, siccome non sono contenti del lavoro che hanno fatto e vogliono sempre portare la pianta a ragionare come un cristiano e non con la sua fisiologia, allora tutti i succhioni che nascono vengono tolti e alla fine si seccano completamente le branche nella parte esposta al sole, perché si somma l'azione del taglio a quella del sole, non c'è circolazione attiva di linfa e quindi si spacca e si brucia la branca e quindi voi state facendo produrre la pianta al 30-40% della potenzialità che aveva. Il problema è quello. Lasciamo questa qua che è più alta e più verticale. E questo qua, anziché tagliarlo tutto, forse da qua Gianluo. va bene lì. Vedete adesso, la cima è questa. Abbiamo lasciato, anziché tagliare il tutto, delle cose a sottobranca. Qua ce n'era una di sottobranca, ma si è rotta. Dai, dai, allora rifinisci il taglio. Però ce li ha, no, ne ha ancora, ci sono. Sì, sì. Ne ha ancora. Ce li ha più sotto, capito? Ce li ha lo stesso. Va bene. Adesso qua bisogna togliere tutti i succhioni. Questo, questo qua. Questo è quello che si butta dentro. Questa è una bella cima, il pagato è molto esterna. Sì, ma non puoi mettere un'altra cima qua. No, no, no. Questo va fatto fuori. Non c'hai una... Mi guarda, questa secondaria qua, qua, ci teniamo qua, questa qui. E togliamo solo questo. Questa non è la cima. Tu gli fai... Ma per adesso stavamo scegliendo quella interna. La cima è interna, qua bisogna lavorare tutto a sottobranche. Adesso c'è quest'altro tubo grosso. Prova a vedere se riesci. Questa è una cima aggiunta, questa la faccio fuori. Aspetta che guardo là fuori. Aspetta. E qua là fuori. Stiamo ragionando. Eh, era dalla secondaria. Una piccola. A quella che avete scelto. Eh, questa qua la tolgo del tutto. O la togli tutta da lì, oppure... Sì, sì. Ma è bello, eh? No, perché poi... Ombreggia, dici? Ma è bello, eh? Sì, sì. Fatemi vedere da fuori, perché si ha un'altra visione, però... Ma è questa roba qua, Anto. Se togliamo solo la cima, rimane bella la cima. All'interno, questa qua. Almeno per... Quella stanno pensando di togliere la tutta. Sì, ma la cima è una controcima qua. Quello lì bisogna togliere la tutta e poi... E non basta, perché comunque quel pennacchio ombreggia tutto qua e non sviluppi niente. Ferma. Vedi che hai sempre... Ce n'è un altro. Ma questo non lo puoi lasciare? No, nulla. Facevo un taglio dall'inizio ed era... Ma avete fatto perdere 5 minuti di tempo. Allora, la cima bella è questa qua. Quindi qua facciamo così. Piano. 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 Sì, c'era, c'era, io non ce l'ho. Ognuno le cose le può automatizzare, anzi. Io ho pensato, usano queste così tagli di meno, controlli bene quello che devi tagliare. Se riusciamo a farla uscire un po', prendiamo l'ugorriolo e l'attacchiamo a quella. Non viene legata direttamente qui da tirare? Eh. E dove la torda? Allora, nella macchina mia ci sono, c'è il cordeolo e il venu. E questa la possiamo dirigere da questa parte, altrimenti la lasciamo per il momento così. Solo che, solo che se lasci questa, qua non sale mai dalla parte giusta e non va bene per quel motivo. Dai, prendiamo la corda. Eh, ma dove la vuoi spuntare? Verso qua. Verso qua. Dritto. Abbiamo l'atteso problema qua, eh. O no? Appla. Io vorrei raccoppiare, ovunque la sposti, vincoli le albe sottostante. Eh, allora la butto giù. No, no, la laschi così giusto, perché ormai abbiamo fatto santi tagli. Eh, però... Giri, comprometti gli altri. Sì, però... Eh? Però, se voglio far salire qua, non posso avere il cappello di questa. Cosa fondamentale. La battiamo. Adesso vedo un po'. Anziché abbatterla del tutto, la ridimensiono. Ah, lì? Beh, quella non facciamo. Sì, c'è un po'. 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 Questo perché? Perché deve salire questa. Se c'era tutto quel cappellone, non salirà mai. Non la c'ha libera. Quindi, per farla salire, facciamo così. Questo. Questo. Allora, cerchiamo di fare un riassunto, di vedere a che punto siamo arrivati. Da un cespuglione, ve lo ricordate com'era prima? Sì. Se no c'è il signor, come si chiama? Mario Stocchino. Mario Stocchino, che ve lo farà rivedere da prima. Da un cespuglione, abbiamo semplificato i percorsi. Non li abbiamo potuti lasciare tutti quanti. Ne abbiamo lasciato, se facciamo il conto, uno, due, tre, quattro, cinque, che non sappiamo se togliere o meno dove è appoggiato quel signore. Sei, sette, sette percorsi. Ovviamente, un roventiniano puro non sarebbe molto contento, perché sette è troppo più grande di tre. Però, questa pianta era grande. La potevamo ridurre a tre percorsi. Avremmo fatto una devastazione enorme. Un danno. Un danno alla pianta e a noi stessi. Adesso ne abbiamo tolto di cose. Se vedete, quello che è in terra è anche più di quello che è rimasto. Però, non abbiamo tolto la dignità di pianta. Questo albero era e albero è rimasto. Se siete d'accordo, comunque sia. E in più gli abbiamo dato anche una possibilità di riformare proprio dei coni di vegetazione, dove verrà più facile fare la raccolta. Abbiamo dato un ordine a questa chioma. Adesso, se mi aiutano i professionisti, semplificate un po' questa testona grossa di questa cima. Se ce la fate, Gianluca. Se ce la faccio di pomeriggio, vengo col drone e il suo parlato. Se alleggeriamo semplicemente questo testone grosso, facciamo scendere meglio la luce sotto e diamo modo di svilupparsi. E quindi Gianluca, che è più giovane, sicuramente, è più esperto, ci trova... E poi Gianluca, vedete... Sì, 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 quella lì, ti ho capito benissimo e togli. Ma tutta o ti lascio la sottoblanchetta? Bellissima. Ma quale stai... Questa qua. Io già, quella che c'è più in alto l'avrei tolta tutta. Per vederla. Sarei andato... Questa qua. Lui forse voleva andare lì. Io volevo andare dentro. Ah, ok. Allora lì non ti credo. Io voglio prendere... Io ce l'ho già la cosa. Vedi questa che viene troppo fuori, che è un tubo grosso, tutto quanto, l'avrei tolto. Questa che viene per su di te. La tipotomia grossa da sotto. Se vieni da qua la vedi. Da qua, da qua. Purtroppo non è facile quando sono così alte. Anche perché... Anche perché... Eh? Per quello che già abbattiamo. Secondo me dove lui c'è anche più grande... Perché non tutti i pranzi? Questa, tu? Sì, perfetto. vedete come si ma poi poi questo era un ombrello che non faceva scendere la luce sotto lo scopo è quello di liberare luce cioè di illuminare tutto tutta la parte della chioma se c'è qualche tubetto grosso potete toglierlo ma la cosa principale era questo è gianlu si può ci si può anche fermare a Grazie a tutti.